Buonasera amici e amiche di la CTV. Partiamo oggi con questo nuovo spazio interamente dedicato alla salute. Ogni martedì e giovedì dalle 15.30 alle 16 saremo in diretta con voi. In studio ci raggiungeranno gli specialisti della medicina in diversi settori. A loro potrete porre le vostre domande. Infatti vi ricordo che potrete interagire in diretta con noi chiamando al numero 09631976216 che intanto state vedendo in sovraimpressione. Vi ricordo poi ancora il nostro sito www.lactv.it e i canali youtube twitter e facebook. Potrete seguirci anche lì in diretta interagire con noi e poi seguirci anche dopo questa diretta. Oggi parleremo di vene vericose che sono un problema non soltanto legato all'estetica ma un problema soprattutto funzionale. Lo faremo con l'angiologo Elia Diaco che ci ha raggiunto oggi studio. Buonasera a lei professore. Buon pomeriggio a tutti. Parleremo di prevenzione, di agnosi e terapia delle vene vericose. E guardiamo allora questo servizio che ci introduce alla tematica di oggi. I disturbi circolatori alle gambe sono in aumento. Ogni anno un milione di italiani si sottopone a un intervento chirurgico per eliminare le vene vericose. Complici le cattive abitudini come la sedentarietà, una dieta squilibrata, i vestiti troppo stretti e le oscillazioni di peso. Senza contare fattori ereditari e costituzionali come il sesso e la razza. Per ragioni ormonali infatti le donne risultano più colpite degli uomini, soprattutto quelle predisposte geneticamente. Il problema riguarda il 40% del sesso femminile e il 25% di quello maschile. Stanchezza, senso di pesantezza e gonfiore alla parte bassa della gamba sono i segnali più comuni, accompagnati talvolta da dolore, sensazione di indolenzimento e bruciore, soprattutto stando in piedi, che migliorano quando si cammina. Spesso ancorate solo a un problema di estetica, le vene varicose provocano sintomi che disturbano la quotidianità e se non trattate possono avere ripercussioni sulla salute, come i rischi di ulcere e flebbiti, fino all'ostruzione completa dell'avena. Per sconfiggere questo fastidioso nemico è importante una sana prevenzione per limitare i danni. Si ha un'alimentazione corretta, movimento, indumenti non occlusivi, calzature donne e soprattutto una diagnosi precoce. qualora il problema sia già comparso, prima si interviene e meglio è, con trattamenti sempre più personalizzati ed efficaci. E allora dottore, i fattori di rischio sono veramente diversi, la prevenzione è fondamentale ma non mancano sicuramente i trattamenti personalizzati qualora si presenti il problema. Partiamo però da qui, cosa sono le vene varicose? Allora, in questo periodo abbiamo una maggiore vasodilatazione delle nostre vene. Questa maggiore vasodilatazione provoca un maggiore diametro delle stesse e quella sintomatologia tipica che compare in questo periodo, quale dolore e pesantezza, è tipico della malattia venosa cronica che può sfociare in una vena varicosa. Quali sono i sintomi che devono iniziare a farci preoccupare? I sintomi in questo periodo sono dolore, crampiforme essenzialmente, bruciore, pesantezza e quella sensazione di stanchezza che subentra nelle tarde ore del pomeriggio in seguito a una giornata molto calda. Allora, in Calabria soffrono di insufficienza venosa il 30% della nostra popolazione, una percentuale che poi scende invece di 10 punti al nord. Perché? Cosa succede nella nostra terra? Molto probabilmente in Calabria c'è una maggiore predisposizione genetica alla malattia venosa cronica e alla formazione delle varici. Il sistema sanitario investe poco in Italia, 120 milioni, si parla di 120 milioni di euro, mentre in altre nazioni dell'Europa, penso alla Gran Bretagna che ne investe 900 milioni, piuttosto che alla Germania che ne investe 200 milioni. Perché accade questo? Cioè questo problema è poco sentito, cioè cosa succede in Italia? Seppure è un problema che affligge diverse persone, soprattutto le donne. Dobbiamo partire da lontano. Diciamo che essenzialmente l'angiologia come branca viene un po' sottovalutata, ma la malattia venosa cronica è molto diffusa nella popolazione. Quindi c'è una minore presenza nel territorio di ambulatori di angiologia, di strutture dedicate, con sicuramente una lista di attesa molto lunga per avere una vista angiologica e tante volte la sintomatologia che abbiamo prima detto, quale è la pesantezza e il dolore, che sono un campanello d'allarme importante e fondamentale per prevenire la malattia venosa cronica, ma anche quello che può venire dopo, quale può essere una flebite, una tromboflebite, viene sottovalutato tantissimo dalle strutture sanitarie in genere. La sedentarietà, lo abbiamo detto nel servizio, è uno dei fattori di rischio. Lei chiede allora quale sono le categorie professionali più a rischio? Le categorie professionali più a rischio, senza alcun dubbio, sono i lavoratori che svolgono in piedi il loro lavoro. Facciamo un esempio, i parrucchieri, oppure le persone che stanno molto sedute, le persone che non fanno attività fisica, le persone che hanno un fattore ereditario che è predisponente per la formazione della malattia venosa cronica e delle variglie. Cosa consigliate? A chi sta troppo seduto piuttosto che a chi invece è costretto a stare ore e ore in piedi? Allora consigliamo senza alcun dubbio, l'attività fisica è fondamentale ed importante, in maniera particolare il nuoto. In questo periodo è fondamentale, visto che siamo nella stagione estiva, il nuoto è fondamentale per favorire una migliore circolazione venosa del nostro sistema venoso. L'avanzare dell'età, l'aumento di peso, la gravidanza possono incidere e se sì, perché e quanto? Allora abbiamo detto l'avanzare dell'età senza alcun dubbio, ma bisogna stare attenti perché la malattia venosa cronica può colpire anche i ragazzi, le ragazze di giovane età perché hanno un fattore ereditario predisponente. In questo caso quindi cosa consigliate? In questo caso consiglio una visita angiologica con un ecocolordoppler in maniera preventiva, anche i soggetti subito dopo i 18 anni, in tutti i soggetti che hanno una familiarità. Questo come lo si vede? Lo si vede in maniera molto semplice, guardando le gamme della mamma o del papà o del nonno, quindi è utile fare una vista angiologica con un ecocolordoppler a arti inferiori venoso. L'aumento di peso e la gravidanza invece? La gravidanza sicuramente è un fattore predisponente per quanto riguarda le malattie venose croniche e le varici e l'aumento di peso è un qualcosa di importante, avere una giusta forma, una giusta linea, una giusta alimentazione e tenere un peso forma è fondamentale per le nostre gambe e per il nostro sistema venoso. Chiaro rispetto all'aumento di peso, in caso invece di gravidanza cosa consigliate alle donne gravide? Non so, magari maggiore ore di riposo piuttosto che lunghe passeggiate? L'utilizzo delle calze compressive nelle donne gravide è fondamentale per la prevenzione della malattia venosa cronica. Queste calze compressive non fanno altro che tenere un diametro fisiologico che ricordiamo è di 2 cm della vena safena interna e quindi aiuta allo scorrere bene del sangue nelle nostre vene senza l'infiammazione delle stesse che causa la malattia venosa cronica. Guardiamo invece alcune delle domande che i calabresi le hanno voluto porre. Pur non soffrendo di vene varicose, noto con l'arrivo della bella stagione dei primi caldi una certa pesantezza alle gambe. Volevo capire da cosa dipende e quali potrebbero essere i rimedi. Io sarei solo curiosa di sapere come prevenire le vene varicose. Se i miei genitori hanno sofferto di vene varicose, io ne soffrirò di questa malattia? Come prevenire le vene varicose? Comunque l'altra mia domanda era quella se uno ne è stato già soggetto e le ha curate, se si possono ripresentare. Quindi chiaro, ereditarietà, gonfiore, sensazione di gonfiore e di pesentezza, come prevenire le varici. Ma prima di rispondere ai calabresi abbiamo una telefonata. Pronto, buonasera, con chi parlo e da dove chiama? Buonasera, sono Ivana, telefono della mezza, vorrei chiedere un'informazione su queste vene varicose. Prego Ivana. Il mio problema è bruciori alle gambe, vorrei sapere se è relativo alle vene. Signor Ivana, senza alcun dubbio il bruciore alle gambe è tipico della sintomatologia della malattia venosa cronica. Io le consiglio una vista angiologica con un ecocolordoppler degli arti inferiori e poi l'utilizzo di una schiuma criogenica che allieva la sintomatologia, ma allo stesso tempo in seguito alla vista angiologica dovrà fare anche una terapia per osso, per bocca, per prevenire l'infiammazione della vena e far sì che questa sintomatologia scompaia. La ringrazio moltissimo, grazie, grazie tante. A lei, arrivederla. Grazie a lei, signore Ivana, grazie a lei. Ricordiamo ancora i nostri contatti, vi ricordo che potrete interagire con noi, chiamando al numero 09631976216, poi vi ricordo il nostro sito www.lactv.it, i nostri canali YouTube, Twitter e Facebook. Allora, avevamo lasciato in sospeso gli interrogativi che ci hanno posto, i calabresi che abbiamo sentito per strada. Gli interrogativi rispondiamo in ordine, senza alcun dubbio, c'è una ereditarietà, quindi è bene fare una prevenzione, quello che noi facciamo solitamente nelle donne, ma anche negli uomini calabresi, c'è una sintomatologia. Lei lo diceva prima, quindi nel caso sussistano fattori di ereditarietà, bisogna fare tutti i controlli entro e non oltre i 18 anni o a partire dai 18 anni? A partire dai 18 anni in poi va fatta sicuramente una vista angiologica con un ecocolordoppler per stabilire o meno se c'è una malattia venosa cronica o l'insorgere di una malattia venosa cronica. Ricordiamo inoltre ai nostri telespettatori che avere delle gambe belle non significa avere delle gambe sane. Tantissime volte abbiamo visto tantissime persone con delle gambe bellissime, ne stiamo vedendo qua in video alcune, però all'interno facendo un ecocolordoppler si vede che c'è un diametro maggiore, un reflusso della vena safena che può essere l'inizio di una malattia venosa cronica. La malattia venosa cronica porta poi, ricordiamo anche a quegli inestetismi quali possono essere le telangiectasie, le famose vene rosse e vene verdi che sono una conseguenza della malattia venosa cronica e quindi per prevenire questo tipo di inestetismo va fatto sicuramente un adeguato controllo in un ambulatorio specialistico. Poi un altro telespettatore ci diceva io ho già sofferto di vene varicose, ha subito già degli interventi, sarò destinato insomma a vedere sulle mie gambe la comparsa di altre varici? Sicuramente sì, la risposta è sicuramente sì. La malattia venosa cronica si può solamente curare, si può rallentare, ma non si può fermare. Oggi la medicina ha fatto dei passi da gigante per quanto riguarda questo tipo di patologia ma è un qualcosa che va curata nel tempo, specie in questo periodo, nel periodo estivo. Chi soffre di questa patologia ha bisogno di una cura adeguata, l'utilizzo attraverso anche una vita che porti a una non sedentarietà ma a un'attività fisica e a un'alimentazione giusta. E quindi continuiamo a parlare di prevenzione. Diceva alimentazione, attività fisica, fondamentale anche l'utilizzo delle scarpe, è vero? Non ai tacchi alti? Non ai tacchi alti ma ai tacchi alti nella maniera giusta, massimo 4-3 centimetri, non di più. L'esposizione al sole in questo periodo, ricordiamo che l'esposizione al sole provoca una maggiore vasodilatazione delle vene e un'infiammazione delle stesse con la sintomatologia che riferiva la telespettatrice poco fa, quindi con sensazione di bruciore, di pesantezza, dolore campriforme la notte, quindi non ai tacchi alti e poco esposizione al sole o se si espone al sole la persona si deve esporre con una protezione molto alta. Io ho fatto riferimento soprattutto ai tacchi perché a quanto pare, secondo statistiche certe, sono le donne a soffrire di più di questo problema rispetto agli uomini. Le chiedo perché? Sicuramente c'è una maggiore predisposizione genetica e una predisposizione ormonale che è tipico della donna per quanto riguarda questo tipo di patologia. Rispetto ai tacchi massimo quanti centimetri? Abbiamo detto massimo 5 centimetri, non di più. Lo ripetiamo. E rispetto all'alimentazione il fumo incide? Il fumo incide in maniera importante in questo tipo di patologia, quindi l'astensione al fumo è fondamentale. Intanto abbiamo una telefonata, mi dicono da regia, buonasera, pronto con chi parla e da dove chiama? Salve, sono Giulia, vorrei fare una domanda al dottore. Sì, prego Giulia. Io ho vestito a vedere i rossi sulle gambe, sono un po' preoccupata, cosa dovrei fare? Dice che ha dei capillari rossi sulle gambe. Allora, i capillari rossi sulle gambe sono solamente degli inestetismi. Sicuramente va fatta una vista angiologica con un ecocordoppler degli arti inferiori per vedere se le vene accessorie a questi capillari rossi sono continenti o meno. Capillari rossi è solo un problema estetico e non funzionale che si può curare attraverso la scleroterapia nei mesi invernali. Va bene, grazie. Grazie a lei, Ilaria, buonasera. Ricordiamo ancora il nostro contatto, 0963-1976216. Allora, rispetto invece all'abbigliamento, è vero che bisogna evitare i jeans troppo stretti o comunque qualsiasi indumento che aderisce un po' troppo alla pelle? Sì, senza alcun dubbio i jeans troppo stretti o qualsiasi indumento che aderisce troppo alla pelle è un qualcosa che può nuocere alle vene perché può provocare l'infiammazione delle stesse e quindi il prorarsi di questa malattia. Lei ci tiene tanto alla prevenzione, dottore, tant'è che avete proposto per il terzo anno consecutivo un'importante iniziativa, il concorso Miss Gambe sempre in forma, che è abbinato poi a Miss Italia Calabria, che è già partito per sensibilizzare un po' la gente verso queste tematiche. La prima tappa si è svolta nella città a Copoluogo, a Catanzaro, ma ne prevedete delle altre, perché sensibilizzare è fondamentale, visto che spesso la problematica inerente alle varici viene associata soltanto ad un problema estetico, mentre in realtà è soprattutto un problema funzionale. La prevenzione è senza alcun dubbio fondamentale e importante. Io di questo ti ringrazio per l'invito e ringrazio il vostro editore per avermi invitato sulla vostra rete televisiva, perché parlare di vene varicose e raggiungere, entrare nelle case di tutti i calabresi, è fondamentale per far conoscere agli stessi quanto è importante oggi poter curare le vene varicose. La medicina ha fatto dei passi a gigante, abbiamo già dato dei consigli, delle pillole importanti per prevenire questo tipo di malattia. Lo facciamo attraverso questo concorso che ripetiamo da tre anni ormai, avendo una testimonial d'eccezione che Roberta Morise, che in maniera così garbata e gentile, si è proposta come donna calabrese, come subrette calabrese, per testimoniare anche lei l'importanza di fare determinate cose per prevenire la malattia venosa cronica. È fondamentale far conoscere alla gente la prevenzione, perché prevenire significa ritardare la formazione delle vene varicose, di quegli anestetismi che sicuramente col passare del tempo giungono sulle nostre gambe, quale possono essere queste telangiectasie rosse, ma anche le vene verdi, le branche varicose, che non solo sono un estetismo importante, ma col tempo possono portare a una flebite, a una tromboflebite, che è un qualcosa di più importante, qualcosa di funzionale per il nostro corpo, che può portare dei seri danni importanti. Ma secondo lei perché questo problema viene sottovalutato? Viene sottovalutato perché non si è fatto fino ad oggi un'importante campagna di prevenzione. La campagna di prevenzione è far conoscere quello che noi abbiamo detto, l'utilizzo dei tacchi, l'esposizione al sole, la visita preventiva fatta per tempo, non quando già è presente una grossa varice o un'ulcia ravenosa, che è la conseguenza della varice stessa, o il subentrare di una trombosi venosa. Conoscere e capire di avere una malattia venosa cronica fa sì che si possa ritardare nel più lungo tempo possibile qual è la complicanza della stessa. Quindi la varice, la trombosi venosa, l'ulcera venosa, che sono delle conseguenze importanti e sicuramente che poi vanno curate in diverso modo. Tra le bevande da evitare, ritorniamo un po' alla prevenzione, bisogna evitare anche alcol e caffè, mentre tra gli alimenti da prediligere bisogna soprattutto assimilare fibre? Così? Ci spieghi perché? Bisogna assimilare fibre senza alcun dubbio e evitare alcol e caffè. L'assunzione anche di bevande, che sono molto ricche di mirtillo, aiutano alla tonicità dell'avena stessa. Allora parliamo adesso dei trentamenti. Qualora il problema sia già comparso, quali esami consigliate? Abbiamo detto una vista angiologica, un ecocolordoppler degli arti inferiori venoso. Dopodiché scegliete il trattamento più adatto? Dopodiché scegli il trattamento più adatto per il tipo di patologia in base alla sintropatologia, in base al paziente. Il trattamento naturalmente varia da paziente a paziente. Ma tutte le tecniche sono invasive oggi? Oggi diciamo che le tecniche invasive sono un po' per storia. Il famoso stripping, la famosa scivà che si utilizzava un tempo, ormai in questo tipo di specialistica sono un po' la preistoria della stessa. Quindi la sala operatoria, il ricovero, l'anestesia, per curare in maniera definitiva le vene varicose, sono un qualcosa che appartiene al passato. Allora ricordiamo la tecnica da lei introdotta che non è invasiva e che si chiama scleromus. Questa tecnica ci consente in maniera ecoguidata, ecco questo vediamo un prima o un dopo di una vena varicosa a livello del cavo popliteo, questa è un'accessoria della vena safena in un uomo, questo è il prima e il dopo, subito. Sempre fatto con l'intervento scleromus? Non è un intervento, è una procedura che si fa in ambulatorio, senza alcun tipo di taglio, senza alcun tipo di anestesia, ma in maniera ecoguidata si inietta un liquido schiumoso all'interno e si provoca un vasospasmo e una flebite chimica che chiude la vena stessa. Il paziente ritorna subito all'attività normale, lavorativa, indossa solamente una calza, fa dell'eparina a basso peso molecolare per 7 giorni e una terapia atopica per 30 giorni. Continuiamo a vedere le altre slide? Eccolo qua, questo è il laghetto che viene introdotto all'interno di questa branca varicosa e questo è il subito dopo attraverso il vasospasmo e la chiusura della vena stessa. Sicuramente un gran sospiro di sollievo per chi ci segue, non è più tecniche invasive, ma insomma una metodologia... Quest'ultima immagine è importante perché è un paziente in cui la prevenzione della malattia venosa sicuramente è arrivata tardi, c'è già una iperpigmentazione, c'è una branca varicosa, ecco noi puntiamo a far sì che nell'uomo, nella donna calabrese, non si arrivi già a questo punto, ma sicuramente si faccia una prevenzione adeguata. E allora, dottore, noi la ringraziamo per essere stata con noi, la ringraziamo e ricordiamo insomma quelli che sono stati i punti un po' salienti di questa puntata, quindi viene varicose, i fattori di rischio possono essere diversi, tra questi la sedentarietà, una dieta squilibrata, l'abbigliamento costrittivo, non a vestiti aderenti, non a jeans che comprimono la pelle, le osciliazioni di peso incidono anche, così come i fattori ereditari, chi ha genitore o nonni convene varicosa, varicosa risulta sicuramente più a rischio, poi incidono anche i fattori costituzionali come il sesso, abbiamo detto che le donne ne potrebbero soffrire di più per ragioni ormonali, incide anche la postura, perché una postura scorretta può causare l'ipedema di cui lei ha parlato, sia la prevenzione, lo abbiamo detto, quindi alimentazione corretta, maggiore movimento, attività fisica e poi si ha i trattamenti qualora insorgesse il problema. Grazie dottore. Grazie a voi, arrivederci. Alla prossima.